Riprende la nostra rubrica conosciamo i consiglieri comunali di Giuliano. Oggi è la volta di Andrea Guarino, consigliere di maggioranza della lista Giuliano Libera. Andrea Guarino, imprenditore, è la prima esperienza politica. Perché ha scelto di candidarsi? Perché da molto tempo esternamente alla politica ho frequentato vari partiti e quindi ho deciso di dare la possibilità a me se ero in grado di dare una mano a questa città. Nel corso della consigliatura Guarino promette di impegnarsi nel settore della nettezza urbana. Sicuramente è un impegno sul mio settore che è quello della nettezza urbana perché sono molto a conoscenza. Se potrò dare una mano, molto volentieri. Se dovesse poi dare un suggerimento al sindaco sarebbe quello di continuare ad amministrare così come sta facendo. Di continuare quello che sta facendo perché secondo me sta andando molto bene. Infine ecco il bilancio del consigliere sui primi 100 giorni di amministrazione. Il bilancio di questi primi 100 giorni è che il sindaco ha effettuato atti impellenti provenienti dal commissariamento e di continuare che adesso stia iniziando la fase dell'amministrazione Pozzillo.